Musica Vedi il corpo di Mark ha ancora attaccato alla mia auto Ma davvero? E stai ballando Esatto e stai ballando mentre invece del mio monitor non vedo queste cose Musica Sai cos'è la vita? A saremmo 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 morti Excuse me why Ci sono due volpi cos'è successo? Ci sono due volpi è un angolare Non c'è più un unicorno Due piccoli serpenti Una rango tango Per me sì Cosa fai tu? Non è male sto bro Un'altra buca non ci credo Signor editor metta la mia clip Ok Credo di averne visto un'altra Gatti Io veramente E poi è sempre Leo Smettia Era Camille mi sa O Camille o Leo Guarda che alla fine Leo si prende le colpe ma Camille è ben peggio secondo me Non guardare la mappa Sì No No dove le hanno trovate? Non lo sapete Dove le hanno trovate? Questa cosa ero più davvero No Numero 3 Abbiamo già una palla di ferro Ci prendiamo il regalino Quindi se noi compriamo questa Compriamo questo Uniamo questa E uniamo questa Creiamo la nuova pala Di nuovo di ferro Mi stai diludendo Stavo dicendo che tutto quello che ho criticato a signor editor fino ad ora viene rimosso grazie a questa opera in arte Secondo me bisogna dire ben corniciato No secondo me qualcuno dovrebbe metterla Sì sono il pedica 1000 Come immagini profilo su Instagram Cambierò mai uno Vedo il checkpoint ma tanto non cado Ma speriamo che cadi Aia Ma ci sono caduto Sei un gugu Povera Ha funzionato per due Godo per tutte e due Aia Sì ma tu usa tutto quello che vuoi Ma da Marmo scappa No no c'è un pazzo dall'alto Non ci credo Che colpo che ha fatto Ti ho vendicato Steph Ti ho vendicato Steph Alerio scappate Scappate No no ti prego No ti prego Ma dove è spaurato Non lo so ma all'aereo ragazzi Perché se quella persona che sto pensando è molto azzeccata con la forma del viso E anche l'espressione in realtà Ma a me sembra un rapper Così ma in realtà questo strato questo strato questo strato questo strato questo strato Pam Mi faccio ridere Dai due anni Sono certi silenzi ragazzi che parlano più di certe cose Sì 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 sono d'accordo 98 soldini Buoni Comunque sono buoni So soldi E c'è un tunnel che passa sotto casa tua che collega a casa nostra Sì È quasi raccapricciante Non l'abbiamo fatta noi Sembra di quelle robe da stalker dei film honor Non le ho fatte neanch'io vi giuro No nemmeno noi ma figurati Dai È venata Sono stata talmente felice di non registrarlo Che quindi adesso sono tornata in forma capito È stato come un periodo di meditazione Esatto Ok Sicuramente La stanza dello spirito del tempo Fer è arrivata ed è già su pressione di livello 2 Grazie a tutti